Come posso ridurre i consumi? E rispettare l'ambiente? Dal 9 all'11 novembre, Ecopolis, il festival della sostenibilità ambientale, all'Abbadia di Fiastra. Idee, incontri, formazione e laboratori con esperti e personaggi illustri sull'economia domestica e risparmio energetico. E con un pannello solare fai da te! Ecopolis, Abbadia di Fiastra, Macerata. Ingresso libero.